Ed eccoci anche ora ritornati in The Last of Us Nell'ultimo episodio siamo usciti da questo oscuro posto, questo palazzo della morte Pieno di clicker e infetti E procediamo verso la calda e rassicurante luce dell'alba Ah, quanto mi piace l'alba L'alba chiara Allora, vediamo un po' se qua in giro c'è qualcosa ma Mi sembra che ci sia una sega Il che vuol dire che noi continueremo tranquilli Però qua un po' di esplorazione va fatta, eh Qua intorno, tipo su questo camiondo dovrebbe esserci qualcosa Ma invece non c'è una sega Qui dietro? Niente Il palazzo del governo è di qua Ok, perfetto Ci andiamo subito Giusto il tempo di fare una circospezione per verificare che io non dimentichi nulla Alle mie spalle Potrebbe essere importante trovare qualcosa di utile qui in zona Per riutilizzarlo per la creazione di componenti validi Atti al miglioramento delle mie statistiche personaggio Ma come parlo bene? Ma chi è Sabaku? Ma Sabaku chi? Aspetta Se non ricordo male in questo edificio Appunto Meno male Che l'istinto E i ricordi Mi aiutano Silenzio 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 Va tutto bene Va tutto bene Va tutto bene Sì 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 Va tutto bene Non è niente Piano. 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 Oh! Piano, ho detto. Il mio bello scarpone sulla faccia. Tutto bene. Tutto bene, sì. Ci ha pensato Joy. Sono accettati da poco. Quei soldati si sono appena trasformati. Significa che ce ne sono altri qui. Streghiamoci. Eh, sì, bisogna stare attenti. Mmm. Un'aragosta. Sapete che non l'ho mai mangiata. Le vorrei provare una. Dicono che è squisita, ma costa 40 euro. E poi finisce subito. Fa quello che ho capito. Bene, questo pianoforte non è un pianoforte. Mi servirà. Ci siamo. Per portarlo e correre oltre il furgone che occupa la strada. Quindi, mettiamolo qua. Piscina dell'aragosta. Che non ho mai mangiato. Perché vorrei mangiare. Ora adesso mi viene voglia dell'aragosta. Secondo me deve avere un sapore squisito l'aragosta. Sarite. Ok. Qui dentro c'è qualcosa di utile. Fogliettino e paletto. Il mio paletto come sta messo? Prendo questo. È più sano. Questo foglio che ho trovato spiega il tipo di virus che affligge questo mondo. Ovvero spiega che è un fungo e non è un batterio, ma bensì proprio un fungo. Che cresce nel cervello delle persone, provocandone atteggiamenti rabbiosi, violenti. E cresce sempre di più. Cresce sempre di più fino a prendere tutto il corpo. Ok. Non odio quando fanno rumore. Che potrebbero attirare l'attenzione di qualcuno. Che c'è? Oh cazzo. Vai presto. Vai presto. Vai presto. Muoviti. Muoviti. Cazzo! Sono troppi! Muoviti! Muoviti! Cazzo! Andiamo via di qui? Che dite? Il braccio di quello. Che schifo. Che schifo sì. Ok. Come usciamo da qui? Ora lo scopriamo. Per prima cosa è meglio esplorare la zona, come sempre. E poi vedremo il da farsi per uscire. Oddio, un banco da lavoro. Qui posso usare gli ingranaggi per potenziare le viarmi. Se ho incontrato un infetto nella zona, vuol dire che sono andata a vedere un'intera di qui. Sì. Sono scappata. Avanti da dentro. Sei scappata. Per l'ora. La curva della città. Ho incontrato un infetto nel centro commerciale. L'accesso è vietato. Come accidenti hai fatto entrare? Beh, ho i miei segreti. Comunque, uno di quei runner, come li chiamate voi, mi ha morso e... Tutto qui. Capisco. Stava spiegando... Eri con Marilyn quando ti hanno morso? No. Le ho chiesto aiuto soltanto dopo. Conoscendola è già tanto che non ti abbia sparato. Stava per farlo. Spero stia bene. Te l'ho detto. Lei ce la caverà. Stava spiegando com'è stata infettata. Lo scopriremo nel DLC Left Behind che mi hanno regalato insieme a questo gioco. Chissà se arriverò a giocarlo. Non lo so. Per il momento lo chiamo Adelastovals poi dopo penseremo. Allora, possiamo modificare... Ah, ma mi ero dimenticato una cosa importante. Mi serve anche la cassetta degli attrezzi per aumentare... Canna Lunga. Devo trovare anche le cassette degli attrezzi. Allora, posso modificare velocità di ricarica, velocità di fuoco, capacità caricatore, velocità ricarica, velocità di fuoco del revolver. Io aumenterei la velocità di fuoco del revolver, che è un'arma comunque molto potente. Oppure la velocità di ricarica di questa. Non lo so. Quanti componenti ho? 101 componenti. Non lo so. Velocità di fuoco del revolver, va. Ok. Poi, voglio anche modificare la capacità caricatore di questa. E anche la velocità di fuoco di questa. Aspetta, velocità di ricarica, velocità di fuoco. Ok, il revolver posso aumentare la velocità di ricarica e lo faccio. E qui posso modificare anche la velocità di ricarica di questa. Quasi quasi, 15. Ce li metto. E stiamo bene così. E ho modificato un po' le armi, giusto per... In modo tale da avere una situation un po'... Ecco, adesso abbiamo più... Capienza per le munizioni. Cosa importante. Abbiamo trovato un proiettile per il re... Uno, solo uno. Cassetto? Roba importante? No? Tana sega? Ok. Non è un problema. Ora se ricordassi la strada... Non sbaglio. Questa è la porta principale. Questa è la porta secondaria. Vediamo un po' qui dentro cosa c'è. Ci sono tutti dei mobili ammassati. Orbici. Qui invece abbiamo... Niente. Grazie. Gioco. Veramente tanto tanto gentile. Sembra una sottospecie di... Museo. Ci sono dei pallet. Delle strutture in legno. Non mi ricordo. Dove cazzo... Ma se mi sbaglio era proprio un museo qua. Non mi ricordo. So solo che è tutto sfondato. Che c'è? Ci sono mostri. Tess, ci sono mostri. Tess. Ci sono mostri. Ma chi è che fa i versi? È la ragazzina. La ragazzina che fa i versi. Ma ci sono o non ci sono i mostri qua? È un museo. Beh, a quanto pare qua ancora non ci sono i mostri. Ok. Posso girare liberamente allora. Forbici. Quanti coltelli ho? Che c'è? Che c'è? L'hippocampus? Commetto che io rimango bloccato. Non mi smettermi di chiamarmi le sfighe da solo. Oh, cazzo. Penso che è andata peggia a loro dall'altro lato. Ci sono i clicker, invece io no. Ok, da qua sto venendo, quindi me ne devo andare di qua. Ma qui affronterò anch'io i miei problemi. E infatti... Clicker di merda. Cazzo, sta venendo qui. Sta venendo qui. Sta venendo qui. Muori, muori. 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 Che culo. Che culo. L'ho ammazzato al volo. Che culo. Ecco, questo è un altro clicker di merda. L'ho uscito io. Vieni qui, clicker di merda. Vieni qui, clicker di merda. Posso fabbricarmi un altro coltello? Sì. Anche perché qui se non mi sbaglio, se non ricordo male, c'è una porta. E la voglio aprire, una porta rossa. Quelle piene di roba. Ho detto ammazzo col mattone, guarda. Ho detto ammazzo col mattone. Quando ci sono i clicker mi viene anche da bisbigliare in silenzio. Ori! Sbaglio sempre. Uccisi tutti? Tutti morti? Ok. Cazzo se sono andato alla grande qua. Stavolta l'ho fatta bene la manovra stealth, visto? Sono un grande. Amici! Mi prendo il paletto sano. Il paletto si consuma col tempo. Più avanti riusciremo anche a fabbricare... A fabbricare dei paletti e delle assi e dei tubi con coltelli, lame, schegge di forbici. E rendere il nostro tubo... Un po' come in Days Gone. No. Mattone più bello, più possente il mattone. Forbici. Questa roba qua. Scotch, mio. In questa cucina mi dimentico sempre di andarci ogni volta che ci gioco. Dovrebbe esserci una porta che si apre solo con un coltello. Da queste pal... Cos'è questo? Mmm. Un barattolo di fagioli, mio. Eccola. E' chiusa. Usiamo il coltello. E la apriamo. Tiè, guarda quanta roba. Pieno di roba. Tutta mia. 25 componenti. Vedi che aprire le porte chiuse è sempre una goduria? Sono i pupazzetti della guerra civile qua. Ok, proseguiamo. Quanto mi sta piacendo rigiocarci, amici. Ma da quanto è bello sto gioco. Rimasterizzato poi. È fantastico. 60 frame. La cosa che va a 60 frame lo dirò in eterno. Mi piace troppo. Pensa se... Pensa se avevo la PS4 Pro quanto si vedeva bene sto gioco qua. Se si vede così bene adesso. Oh, cazzo. Cazzo di merda. Struzzo, ma che cazzo fai? Oh, no. Le donnine sono in pericolo. Oh, cazzo. Gli ha sfondato il cranio. Salvala, salvala. Oh, cazzo. Arrivo io. Toglile le mani d'osso. Ah, toglile le mani d'osso. Ah, stranzi. Ah, ti ammazzi. Ah, ti piace? Ti piace? Dov'è l'altro? Pezzo di merda. Pezzo di merda. Dai, vuoi fare cazzotti. Tu vuoi fare cazzotti. Tu vuoi fare cazzotti. Tu vuoi fare cazzotti. Ah, ah. Pezzo di strumento. Ah, 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 ah. Vuoi fare cazzotti? Vuoi fare cazzotti? Vuoi fare cazzotti? Vediamo. Fammi vedere che sai fare. 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 Dai, mostrami che sai fare. Avanti Forza Forza Ma cazzo di me Oh ma tutti Tutti con me ce l'avete Porci diavoli Che qualcuno mi aiuti Mi tocca usare una molotov over here Prendi e datti fuoco Cazzo Sto andando a fuoco No no sto morendo anch'io Ho sprecato la molotov per sbaglio Oddio 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 Ce l'abbiamo fatta Ho spregato un po' di molotov Ma adesso me le fabbrico di nuovo Perché I componenti Non mi mancano Mi faccio anche un coltello in più va Oddio vediamo se hanno rilasciato qualcosa questi qua Hanno rilasciato niente di utile che posso usare Ero in questa stanza prima che scoppiasse il casino Oh cazzo ma sono ferito Devo usare un medikit Se è stata dura sta battaglia lo so solo io Oddio Dammi il mattone va Dai deve esserci qualcosa di utile in zona Bottiglie no Qualcosa di utile a livello serio Deve esserci una barrita energetica da qualche parte O non c'è Mi sa che non c'è Vabbè Provo ad andare avanti senza medikit A breve Andiamo Qui cosa c'era Qualcosa Da lì stiamo venendo Ok Maledetta nebbia La odio sta foschia Continuiamo a salire Io sono bello ferito Dobbiamo come andare di là Beh semplice Ecco E' quello l'edificio Basta prendere quest'asse di legno L'edificio Eh le c'ho il coso davanti L'edificio Eccolo lì Eh ma manca ancora tanta strada da fare eh Vediamo se qui trovo qualche fiorellino di campo Che mi da qualche pillolina Io potrei anche mettere qualche statistica A livello qualche Potrei anche usarlo qualche pillolina Per migliorare l'energia Per migliorare altra roba Visto che comunque ne ho prese abbastanza di pilloline Se non sbaglio Ecco qua Ti uso l'asse di legno per andare dall'altro lato E il gioco l'è fatto Una o due Quanto ne volete? Basta una Fai attenzione a dove metti i piedi Sarà un po' Beh è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto Questo è un dettaglio che mi fece scoprire il mio zio Non ci avete fatto caso Si è guardato l'orologio E lei gli dice Non distrarti Perché lo ha visto mentre si guardava l'orologio È qui che ha cominciato ad affezionarsi ad Ellie Il caro Joel In questo punto esatto E io non ci avevo fatto caso la prima volta Sono piccoli dettagli che la Nauti Inserisce È una grande casa la Nautidog Veramente una gran casa Crea capolavori Anche se devo dire che questo titolo si è superato I miei giochi preferiti della Nauti Sono Crash Jack and Dexter Ed Last of Us Uncharted anche bello Però Uncharted è più Non tratta tematiche serie Come questo qua Poi qua ci sono gli zombie Quindi Vi lascio immaginare Io con gli zombie fissato Però qua se non mi sbaglio Deve esserci qualcosa Che posso raccogliere Qualche pillolino Sotto la scala forse Sotto la scala c'è Proiettili Foglio E un morto Pazienza Torniamo indietro Prima fa tutta sta strada inutilmente Ascolta andrà tutto Sì La voglia Andrà tutto benissimo proprio Sì sì Deve deve Se io Ah qua devo andare Ok Ti toglia le palle Sto portando il bidone Del sudicio Tutti su Ecco ci siamo Oddio sta bisogna Sai che non me la ricordo Sta zona Senti la musica Pro 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 sto Pro 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 sto Pro 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 sto Vieni a casa 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 Come non sai nuotare? Guarda sembra bassa sul lato destro Seguimi Come non sai nuotare? Ringraziammi più avanti Adesso devo prendere una medaglietta Che si trova qua Qua dentro c'è una medaglietta Se Joel entra Deve esserci una medaglietta Qua nascosta Eccola Eh vedi vedi Pro sto bene a casa Lo conosce bene Questo gioco Eppure dopo tanti anni Fa ancora cacare A giocare Ma chi è Pro sto bene a casa? Chi è? Vedo se qui intorno Trovo altra cosa Mi ricordo Se era solo sta medaglietta Me lo son girato Dentro e fuori Sto campo Sto palude Ma Con l'acqua verde sudicia Mi pare che non c'è più niente Sai? Mi pare Ma non sono altamente sicuro Al cento per cento Ma Ce ne frega Poco più di una sega E noi proseguiamo Il nostro viaggio Come se qui in terra Niente Negli angolini Io ho sempre la sensazione Che in qualche angolo Si nasconda qualcosa Rasento gli angoli Io nei videogiochi Andiamo Tutti morti Lo sapevo E ora che facciamo? Che stai facendo Tess? Magari c'è Avevano una mappa O qualcosa che ci dica Dove andare Fino a che punto Dobbiamo arrivare? Fino a dove serve arrivare Dove era il loro laboratorio? Non l'ha mai detto So Solo Che si trova da qualche parte A Ovest Che ci facciamo qui? Questo non è Da noi Che ne sai di noi? Dimmi So che sei meglio Di tutto questo Ah sì? Sai una cosa? Siamo persone di merda Joel È da molto tempo ormai No, siamo sopravvissuti Stavolta possiamo È finita Tess Ci abbiamo provato Ora andiamo a casa No, io Non vado da nessuna parte Questa è la mia ultima tappa Cosa? La fortuna doveva finire Primo o poi Che cavolo stai No, no Non toccarmi Oh Cristo È infetta Oh cazzo Joy Fammi vedere Non volevo Fammi vedere Oh Cristo Ormai è bella che spacciata Questo ha tre settimane Mi hanno morso un'ora fa Ed è già peggiorato Cazzo Questo è tutto vero Joel Devi portare la ragazza Da Tommy Faceva parte di questa squadra Saprà dove andare No, no, no Quella era la tua Abbracciata E io non la porterò avanti Sì lo farai Senti Dovrei pur sentire Degli obblighi Nei miei confronti Questa volta è diverso Quindi portala da Tommy Merda Oh cazzo Oh oh Sono qui Posso farvi guadagnare tempo Ma dovete correre Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì Non ti lascia sola per Io non mi trasformo In uno di quei cosi Ti prego Proprio adesso Che mi stavo affezionando A te Tess Mi dispiace Io non volevo Andasse così Dacci una vostra Addio Tess Mi dispiace È capitata a te Come poteva capitare a me Ti sei fatta mordere Non metterti lì al centro Almeno nasconditi Prova a portarne qualcuno con te Prima di morire No Invece no Secondo te mi fa piacere Tutta colpa tua Per portare te Dall'altro lato della barricata È stata morsa Non è perché Ho scelto io Di andare a fare Una passeggiata Fuori porta E allora l'hanno morsa Ed è colpa mia L'è colpa tua No Brutta L'hanno ammazzata Ho sentito degli spari L'hanno uccisa Allora qui Se non mi sbaglio Possiamo Cazzo È morta Addio È morta Poverino Mi dispiace Triste sta cosa È triste È triste Andiamo avanti Non abbiamo molto tempo Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Sono troppi Non so se riesco ad affrontarli Tutti insieme Stai giù Stai giù Stai giù Stai giù Stai giù Stai giù Però dammi il tempo Di vedere se c'è roba Eh lo so Ma c'è roba La voglio So che ci dobbiamo muovere Però La roba mi piace È utile la roba Vedi i pillolini Se me ne fossi scappato Mi sarei perso Tutti questi componenti Interessanti Fucilino 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 Sì Fucilino Questo è forte Questo qua Fucile a colpo singolo Ok Questo qua L'è buono Il problema è che è lento Però è molto buono Fucile da caccia Allora Qua abbiamo Un piccolo problema Forse fare meglio Ad usare un medikit Va Che facciamo Prima mi curo E poi ragiono Provo io Sta zittà E lascia fare a me Che sono l'esperto Sono troppi Dovrei Potrei provare A giocarmela in stealth Ma ne dubito Che riuscirei Ad avere successo Vieni fuori Codardo Shhh Vediamo se riesco a farlo stealth Questi si avvicinano Mertalmina Forse se entrassi in quella stanza potrei farcela Questo qui mi sta cercando Aspetta 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 che ti segui e ti segui piccolo frocio piccolo progetto del cazzo e chiamo se ti piace c'è un distrutto sul gozzo hai delle munizioni hai delle munizioni non c'hai un cazzo non c'hai non c'hai un cazzo non c'hai lì ce n'è un altro devo fare piano e in silenzio stai conmi forza eccolo che arriva chi ha chiamato vagabondo ma come cazzo hanno fatto a vedermi ma non è possibile ma come ha fatto a vedermi ma non è vero mai ma non è vero come ha fatto ecco torna di nuovo in modalità ricerca cretino perché ha visto un cadavere per questo si è allarmato vieni in questa stanza dai vieni che c'è il bastone oddio ma non ho la mazza vuol dire che faremo a cazzotti vieni dai che facciamo a cazzotti vieni vieni entra 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 scemo ti è piaciuta la mia ginocchiata nel muso oddio sono riuscito a farlo in stealth ma più avanti ce ne sono altri quindi prestare massima attenzione 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 pillolini mie mie lì doveva esserci anche una barretta energetica se mi sbaglio ma a che parte quanto mi manca adesso già mi manca è morta da poco e già mi manca poteva essermi utile mi sentivo in compagnia invece adesso sono solo con questa ragazzina che non mi da una mano in cazzo devo fare tutto io ora sono solo e quindi dovrò giocare per la mia sopravvivenza questa ragazzina di merda piano piano scendiamo piano la mazza mia la mazza sono fortunati questi qua che ancora non posso fabbricarmi la mazza che ho data perché se no guarda sai che sfondamento di culo sta zitta ok dobbiamo passare dal salone ma il salone ci sono delle persone non so quanti altri ce ne siano laggiù ne vedo due tre ok perfetto vediamo un po' se ne arrivano altri stiamo nascosti per ora voglio dare il tempo a questo finocchio di avvicinarsi quando si sarà avvicinato abbastanza proverò a strangolarlo senza farmi vedere la tettica stealth è quella più utile per riuscire a sopravvivere ma si sa che io sono un impacciato e di conseguenza potrebbe andarmi tutto male oh cazzo ce n'è un altro lì rapporto oh cazzo cazzo tenete le posizioni meno male che ha detto rapporto se no non me ne sarei mai accorto che era qui sto a farti vedere cretina porca di quella troia dietro di te cazzo lascia lascia trozzo so di merda ma dappacu dammi una mano porca cazzo ma porca è resistentissimo meno male che è cieco ma non more eh vabbè ho fatto la cazzata ho fatto la cazzata vabbè dai c'ho il checkpoint da qua perfetto ok allora aspetta adesso vi faccio la sorpresa a tutti e due vi faccio una bella sorpresa a tutti e due vi incendio con una molotov ne sono troppi e il mio fucile da caccia fa cacare al momento quindi l'unica cosa che mi resta da fare tia guarda la fa schifo il mio fucile da caccia potrei provare a sparare però se lo manco se lo manco cazzo a sinistra rapporto a sinistra tenete le posizioni anche questo sta arrivando qua vediamo se riesco di nuovo a strangolarlo senza farmi notare eh ma anche quello si sta avvicinando e va bene ti uso una molotov sul coltello 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 veloce uccidiamolo in modo rapido ok perfetto ok perfetto questo forse riesco a strangolarlo senza che mi veda perché sono riuscito a ammazzare quello col coltello in fretta stonzo di merda ma dai stonzo di merda ma ma vaffanculo è fuori non lo colpiva cazzo chi è in capo ti è piaciuto ti è piaciuto stronzo dov'è il tuo amico voi non avevate un cazzo addosso che mi può essere utile merda continuo a premere quadrato per le risorse un po' se qua in giro trovo qualche altra cosa ce ne sono altri non è finita ce ne sono altri da qualche parte sicuro non potevano essere soltanto in tre deve esserci qualcun altro nascosto quando si nascondono non sono visibili a quando uso l'istinto a parte questo che le grullo vedi ce ne sono altri due pezzo di merda chi è in capo chi è in capo ti è piaciuto coglione vaffanculo i 60 frame mi aiutano ad avere una mira più stabile anche se al momento il revolver fa schifo e dovrei mettere l'attributo mano ferma perché se non metto i punti abilità è ovvio che il mio personaggio non migliora devo riuscire a farlo migliorare attraverso la disposizione di punti abilità che posso implementare grazie alle pilloline ne ho prese un bel po' di pilloline però finché io faccio sempre così nei videogiochi finché non ho problemi finché non arrivo proprio ad avere problemi grossi le abilità non le miglioro e questo è uno sbaglio però sono fatto così in tutti i giochi finché riesco ad andare avanti ci vado punto e basta andiamo va dovrei trovare anche un asse di legno ecco l'uscita ok siamo fuori ok io direi che ci possiamo fermare anche per oggi abbiamo visto abbastanza è stato bello mi ha fatto piacere giocare insieme a voi mi sta veramente garbando portare questa serie di video insieme io vi saluto e ci si becca al prossimo episodio ciao amici lasciate like ciao ciao a tutti